Esternalità negativa è la denominazione dei costi sociali che non sono compresi nel costo monetario. È il termine comune per indicare gli oneri, le privazioni, le scomodità e i danni che io impongo agli altri per ogni chilometro passeggero che percorro, la sporcizza e il rumore e la bruttezza che la mia automobile apporta alla città, il danno causato dagli scontri e dall'inquinamento, la degradazione dell'intero ambiente per l'ossigeno che io brucio e i veleni che diffondo, la crescente dispendiosità delle forze di polizia e altresì la discriminazione a scapito dei poveri connessa al traffico. Sono tutte esternalità negative che fanno parte di ogni chilometro passeggero. La controproduttività è qualcosa di diverso sia dal costo individuale sia da quello sociale. È distinta dall'utilità decrescente ottenuta per unità monetaria e da tutte le forme di disservizio esterno. Si verifica ogni volta che, paradossalmente, l'uso di una istituzione toglie alla società quella cosa che l'istituzione era destinata a fornire. È una forma di frustrazione sociale intrinseca, incorporata. Il prezzo di una merce o di un servizio è la misura di ciò che l'acquirente è pronto a spendere per quello che riceve. Le esternalità indicano ciò che la società è disposta a tollerare per consentire questo consumo. Da controproduttività segna il grado di dissonanza cognitiva dominante che deriva dall'operazione. È un indicatore sociale del funzionamento intrinsecamente controintenzionale di un settore economico. L'intensità iatrogena dell'impresa medica contemporanea è solo un esempio particolarmente doloroso delle frustrazioni generate dalla sovrapproduzione, le quali si manifestano, in uguale misura, sotto forma di accelerazione del traffico, che si risolve in perdita di tempo, di staticità delle comunicazioni, di addestramento a una perfetta incompetenza nell'istruzione, di sradicamento come risultato dello sviluppo urbanistico, di supernutrizione distruttiva. Questa controproduttività specifica è un effetto collaterale indesiderato della produzione industriale, che non si può scaricare all'esterno del particolare settore economico che lo produce. Fondamentalmente essa non è dovuta né a errori tecnici né al sfruttamento di classe, bensì alla distruzione, provocata dal regime industriale, delle condizioni ambientali, sociali e psicologiche che sono necessarie per lo sviluppo dei valori d'uso non industriali e non professionali. La controproduttività è il risultato di una paralisi delle capacità pratiche autonome indotte dal modo di vita industriale. In una società così intensamente industrializzata, la gente è condizionata a ricevere le cose anziché farle. È educata ad apprezzare ciò che si può comprare e non ciò che essa stessa può creare. Vuole essere istruita, trasportata, curata, guidata, anziché apprendere, muoversi, guarire, trovare la propria strada. Si assegnano funzioni personali a istituzioni impersonali. Diventa sempre più difficile per la persona provvedere alla propria salute. L'ordinamento della società, in favore della produzione tecnica di merci, ha due aspetti sostanzialmente distruttivi. Gli individui vengono educati a consumare, anziché ad agire, e nello stesso tempo si restringe il loro raggio di azione. Lo strumento divide il lavoratore dal suo lavoro. Chi voleva servirsi della bicicletta, per i suoi spostamenti quotidiani, viene espulso dalla strada, a causa degli intollerabili livelli di traffico. Il paziente, che era abituato a curarsi da solo i suoi disturbi, trova che i rimedi di ieri sono disponibili esclusivamente su prescrizione del medico, e quindi in gran parte inottenibili. Il lavoro salariato e il rapporto clientelare si espandono, mentre la produzione autonoma e il rapporto basato sul dono deperiscono. La soddisfazione efficace di questi bisogni va nettamente distinta dall'efficienza con cui si fabbricano e si mettono sul mercato i prodotti industriali, come dalla somma dei titoli di studio, dei chilometri passeggero, delle unità abitative o delle prestazioni sanitarie effettuate. Al di là di una certa soglia, questi output diventano tutti necessari unicamente come rimedi. Prendono il posto di attività personali rimaste paralizzate da precedenti output industriali. I criteri sociali idonei a stabilire l'efficace soddisfazione dei bisogni non hanno nulla a che fare con gli strumenti di misura che si usano per valutare la produzione e la distribuzione dei beni industriali. La dipendenza è inabilitante, li riduce allo stato di povertà che è propria dell'era moderna. Le politiche, intese a porre rimedio a questo nuovo senso di privazione, non soltanto sono vane, ma aggravano il danno. Promettendo maggiori beni di consumo, invece di proteggere l'autonomia, intensificano la dipendenza inabilitante. È inevitabile che la tradizione e l'apprendimento autonomo vengano squalificati e che si crei il bisogno di terapie somministrate da insegnanti, medici e assistenti sociali. Costoro, mentre la strada e la radio plasmano secondo modelli industriali le vite di quelli che toccano, sviliscono le loro abilità manuali, il loro modo di abitare o di curarsi, assai prima di annientare le capacità che rimpiazzano. Quando la cognizione dei bisogni personali è il risultato di una diagnosi tecnica, la dipendenza diventa inabilità dolorosa. Nei ghetti di Russo, dove si ritirano i ricchi di quel mondo, si manifestano in forma caricaturale cinque facce della povertà modernizzata dal regime industriale. L'incidenza delle malattie croniche aumenta, man mano che meno gente muore in giovane età. Aumenta il numero delle persone che soffrono per danni clinici causati da interventi sanitari. I servizi medici crescono più lentamente di quanto si allarghi o prema la domanda da loro stimolata. La gente trova nel proprio ambiente e nella propria cultura sempre meno risorse che l'aiutino a sopportare la sofferenza. Ed è così costretta a dipendere da servizi medici per una più ampia serie di inezzie. La gente perde la capacità di vivere con la menomazione o col dolore, e deve affidare ogni suo disagio alla gestione tecnica di personale specializzato. L'effetto cumulativo del sovrasviluppo che si è avuto nell'industria della salute ha fiaccato la capacità della gente di reagire alle prove e di far fronte alle modificazioni del corpo o dell'ambiente. Non ci si aspettava che presto, in una indagine regionale, solo 67 persone su mille sarebbero risultate perfettamente sane, e che la metà delle altre sarebbe stata indirizzata ad un medico, mentre, secondo un altro studio, su ogni sei persone esaminate. Una sarebbe stata trovata affetta da malattie serie in numero variabile da uno a nove. Sono stati ampiamente documentati i caratteri di classe, della percezione del corpo, del linguaggio, dei concetti, dell'accesso ai servizi sanitari, della mortalità infantile e della reale morbosità, specificamente cronica, mentre si cominciano a mettere in luce le origini e i pregiudizi particolari di classe, dei medici. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, intanto, avanza verso una conclusione che avrebbe scandalizzato la maggior parte dei suoi fondatori. In una sua recente pubblicazione si sostiene, infatti, che la sprofessionalizzazione dell'assistenza di base sarebbe da sola il passo più importante per migliorare il livello di salute delle popolazioni. I pazienti non sono più insensibili e un numero crescente di movimenti e di organizzazioni comincia a chiedere che le cose cambino. Le critiche si basano su cinque tipi principali di argomenti e mirano a cinque tipi di riforme. La produzione di rimedi e assistenza serve ormai soltanto i propri interessi. La distribuzione dei rimedi e l'accesso ai servizi di assistenza sono ineguali e arbitrari. Dipendono o dal censo o dalla posizione del paziente, o dai pregiudizi sociali e medici dominanti, per cui, ad esempio, ci si interessa delle malattie cardiache più della malnutrizione. La struttura organizzativa della corporazione medica perpetua l'inefficienza e il privilegio. L'egemonia di un'unica dottrina medica priva la società dei benefici che potrebbero venirle dalla concorrenza fra le diverse scuole. Concedendo maggiori riconoscimenti pubblici alle medicine parallele, si controbilancierebbe e si integrerebbe l'azione della medicina ortodossa. La medicina attuale si preoccupa soprattutto dell'individuo, malato o sano che sia. Destinando maggiori mezzi agli interventi sulle popolazioni o sugli ambienti, si utilizzerebbero meglio le risorse finanziarie disponibili per la salute. Tutti i tentativi di esercitare un controllo politico-razionale sulla produzione di assistenza medica sono regolarmente falliti. I movimenti per la tutela dei consumatori possono tradurre in linguaggio politico informazioni sull'inefficacia della medicina. Se nei paesi poveri si desse la precedenza all'equità, con un tipo di assistenza limitata agli elementi fondamentali della medicina veramente efficace, intere popolazioni verrebbero incoraggiate a prendere parte alla smedicalizzazione della moderna cura della salute, acquisirebbero fiducia e capacità pratica di curarsi autonomamente, proteggendo così i loro paesi dalla malattia iatrogena sociale. La salute designa la sfera di autonomia, entro la quale una persona domina i propri stati biologici e le condizioni del suo ambiente immediato. In questo senso, la salute equivale al grado di libertà vissuta. Un modo sicuro per annullare la libertà di parlare, la libertà di apprendere o la libertà di guarire, è quello di delimitarle stravolgendo i diritti civili in doveri civici. Le libertà dell'autodidatta sono mutilate in una società superscolarizzata, così come la libertà di curare la salute può essere soffocata dalla supermedicalizzazione. Conquistando il diritto all'autovalutazione secondo criteri specifici che rispondono alla sua particolare visione delle cose, ogni nuova specializzazione crea un nuovo ostacolo che impedisce alla società in generale di valutare quanto il suo lavoro contribuisca effettivamente alla salute dei pazienti. La modestia delle paghe, il crescente disdegno per le mansioni di tipo servile, l'aumento dei malati cronici e il conseguente tedio crescente della loro assistenza, la scomparsa della motivazione religiosa per quanto riguarda le suore e i frati, le nuove possibilità che si offrono alle donne in altri campi, sono tutti fattori che contribuiscono a una crisi della manodopera. In Inghilterra quasi due terzi dell'intero personale ospedaliero di basso livello provengono dall'estero, di solito dalle ex colonie, in Germania, dalla Turchia e dalla Jugoslavia, in Francia e dal Nord Africa, negli Stati Uniti, dalle file delle minoranze razziali. La creazione di nuovi gradi, titoli, ruoli, carriere e specializzazioni a livello inferiore è un rimedio indubbiamente efficace. L'ospedale non fa che rispecchiare l'economia del lavoro, propria di una società ad alto livello tecnologico. Specializzazione transnazionale in cima, burocrazia in mezzo e, in fondo, un nuovo sottoproletariato, composto da emigrati e dalla clientela professionalizzata. La moltiplicazione degli specialisti paraprofessionali riduce ulteriormente ciò che il diagnosta fa per la persona che cerca il suo aiuto, mentre la moltiplicazione degli ausiliari generici tende a ridurre ciò che la gente non autorizzata può fare per gli altri e per se stessa. Questa idolatria della scienza trascura il fatto che la ricerca, condotta come se la medicina fosse una scienza qualunque, la diagnosi, fatta come se i pazienti fossero casi e non persone autonome, e la terapia applicata da ingegneri della sanità sono proprio i tre approcci che confluiscono a determinare l'attuale endemica negazione della salute. Come scienza, la medicina si trova su una linea di confine. Il metodo scientifico contempla esperimenti eseguiti su modelli. La medicina, invece, fa i suoi esperimenti non su dei modelli, ma sui pazienti medesimi. Ma sul vissuto significativo della guarigione, della sofferenza e della morte, la medicina non ci dice più di quanto l'analisi chimica ci dica riguardo al valore estetico di una ceramica. Inseguendo l'ideale della scienza applicata, la proliferazione medica ha in gran parte cessato di perseguire gli obiettivi propri di un sodalizio artigiano che mette a frutto la tradizione e l'esperienza pratica, la dottrina e l'intuito, e ha finito per svolgere un ruolo che una volta era riservato al clero, usando i principi scientifici a modi teologia e i tecnici a modi accoliti. Come impresa, la medicina si occupa ormai non tanto dell'arte empirica di guarire il malato curabile, quanto della ricerca razionalistica diretta a salvare l'umanità dall'assoluto del male, dai ceppi della menomazione e addirittura dalla necessità di morire. Trasformandosi da arte in scienza, il corpo medico ha perso i suoi caratteri di un'associazione di artigiani che applicano a beneficio di malati in carne ed ossa le regole fissate per guidare i membri del mestiere. È diventato un apparato ortodosso di amministratori burocratici che applicano principi e metodi scientifici a serie di casi medici. In altri termini, la clinica è ormai un laboratorio. I tecnocrati della medicina tendono a promuovere gli interessi della scienza, non a favorire i bisogni della società. La causa di gran parte delle sofferenze è sempre stata l'uomo. La storia dell'umanità è tutta una lunga cronaca di schiavitù e di sfruttamento, per lo più tramandata dalle narrazioni epiche dei vincitori e dai canti elegiaci delle loro vittime. La guerra è sempre al centro di questa cronaca. La guerra è il seccheggio, la carestia e la pestilenza che venivano sulla sua scia. Ma solo con l'era contemporanea, gli effetti collaterali indesiderati delle cosiddette imprese pacifiche cominciano a gareggiare con la guerra, in quanto capacità di seminare distruzione nel campo fisico, sociale e psicologico. L'uomo è l'animale capace di sopportare le prove con pazienza e di imparare comprendendole. È l'unico essere che sappia e debba rassegnarsi ai propri limiti una volta che li ha conosciuti. L'uomo deve anche sopravvivere ai sogni che finora erano modellati e insieme tenuti a freno dal mito. Prima era il mito ad adempiere la funzione di porre dei limiti alla materializzazione dei sogni cupidi invidiosi, omicidi. Il mito prometteva all'uomo comune la sicurezza su questa terza frontiera purché egli rimanesse entro la sua barriera. Garantiva invece la rovina a quei pochi che cercavano di raggiungere gli dèi. L'uomo comune moriva di malattia o di violenza. Solo chi si ribellava alla condizione umana diventava preda di Nemesi, la gelosia degli dèi. Oggi l'aspetto sociale della Nemesi è cambiato. Con l'industrializzazione del desiderio e la tecnicizzazione delle relative risposte rituali l'Ibris è divenuta un fenomeno di massa. La fonte principale della sofferenza, dell'invalidità, della morte oggi è la vessazione programmata, anche se non intenzionale. I malesseri più diffusi, lo sbarrimento e l'ingiustizia di cui soffriamo sono in gran parte conseguenze, non volute, di strategie intese a produrre una migliore istruzione, migliori alloggi, una migliore alimentazione, e una migliore salute. Una società che valuta l'insegnamento pianificato più dell'apprendimento autonomo non può che insegnare a stare al proprio posto prestabilito. Quando col modo industriale si produce più di una certa quota di valore, le attività di sussistenza si paralizzano, declina l'equità e diminuisce la soddisfazione globale. La iatrogenesi clinica è quando il dolore, la malattia e la morte sono il frutto di cure mediche. È sociale quando le politiche sanitarie rafforzano un'organizzazione industriale che genera malessere. È culturale e simbolica quando un comportamento e una serie di illusioni promossi dalla medicina restringono l'autonomia vitale degli individui, insidiando la loro capacità di crescere, di aver cura l'uno dell'altro e di invecchiare. O quando l'intervento medico mutila le possibilità personali di far fronte al dolore, all'invalidità, all'angoscia e alla morte. Le conseguenze tecniche della medicina istituzionale, fondendosi con quelle non tecniche, generano una nuova specie di sofferenza, la sopravvivenza anestetizzata, impotente e solitaria, in un modo trasformato in una corsia d'ospedale. Se si considerasse problema centrale il recupero della responsabilità personale nella cura della salute e se come obiettivo principale degli interventi legislativi si ponesse la limitazione dei monopoli professionali, più che limitare le risorse dei medici e delle istituzioni che li impegnano, le misure legislative dovrebbero tassare la tecnologia medica e l'attività professionale, fino a quando i mezzi sanitari che possono essere usati direttamente dai profani, non siano realmente disponibili per chiunque voglia avvalersene. La salute desegna un processo di adattamento. Non è frutto dell'istinto, ma il risultato di una reazione autonoma e tuttavia plasmata dalla cultura alla realtà creata socialmente. Esprime la capacità di adattarsi alle modifiche dell'ambiente, di crescere e di invecchiare, di guarire quando si subisce un danno, di soffrire e di attendere serenamente la morte. La salute abbraccia anche il futuro e perciò comprende l'angoscia e le risorse interiori per vivere con essa. Un mondo in cui la salute è ottimale e diffusa è ovviamente quello dove l'intervento medico è minimo e soltanto occasionale. La fragilità, l'individualità e le connessioni dell'uomo vissute consciamente fanno dell'esperienza del dolore, della malattia e della morte una parte integrante della sua vita. La capacità di far fronte a questo trio in maniera autonoma è fondamentale per la sua salute. A misura che intervengono altri nella gestione della sua intimità, egli rinuncia alla propria autonomia e la sua salute non può che deperire. Il vero miracolo della medicina moderna è di natura diabolica. Consiste nel far sopravvivere non soltanto degli individui ma intere popolazioni a livelli di salute personale disumanamente bassi. La nemesi medica è il feedback negativo di un'organizzazione sociale che partita con l'intento di migliorare e uguagliare le possibilità per ognuno di salvaguardarsi autonomamente ha finito per distruggerle.